Benvenuti al mio gioco di magia sulle monete cilerni. Abbiamo una moneta da 10 centesimi, la faccio vedere al pubblico, e un'altra da 5 centesimi. La moneta da 10 centesimi la prendo e la posiziono nella mia mano destra, mentre la moneta da 5 centesimi la metto qua. Guardate, basta veramente poco che la moneta da 5 centesimi diventa quella da 10 centesimi, mentre quella là da 10 centesimi diventa da 5 centesimi. Le monete cinesi è un insieme di giochi, non è solo questo, per esempio, due monete, chiudo, ci sono ancora, due monete, chiudo, ci sono ancora, ma la terza volta due monete, chiudo, e qua non ci sono più, mentre qua sono arrivate le monete. Come ho fatto? Direte a voi, beh, è una magia, ci sarà un trucco, no? Allora ve lo rifaccio, scambio monete, chiudo, le monete non c'è più in questa mano, ma ci sono in questa. Altro modo, una moneta e due monete, una mano e due mani, una moneta in una mano, una moneta in un'altra, chiudo, due monete in una mano, zero nell'altra. Incredibile, tema vero, il gioco delle monete cinesi.